Fatture false, spese gonfiate e poi anche irregolarità nelle gare e nell'assegnazione di servizi additte private è ancora una sorta di controllo occulto degli enti attraverso il coinvolgimento di parenti e mogli, nero il chiave e lo spaccato rivelato oggi dall'operazione Pandora che sta provocando un nuovo terremoto sulla formazione professionale questa volta a Catania. Dieci le ordinanze di custodia cautelare eseguite dalla Guardia di Finanza su ordine della Procura in manette sono finiti Giuseppe Saffo e il nipote Francesco Cavallaro mentre per altre otto persone sono stati disposti gli arresti domiciliari peculato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, falso e frode fiscale, i reati ipotizzati sono 112 in tutti i progetti organizzati fra 2005 e 2010 finiti nel mirino delle fiamme gialle dei 58 milioni di euro di contributi avuti dal Governo nazionale e dalla Comunità europea almeno 9 sarebbero stati percepiti indebitamente. Tra gli enti di formazione coinvolti ci sono l'ANFE, l'Associazione Nazionale Famiglie Migrati e l'ANFES, l'Associazione Famiglie Migrati Siciliani e ancora l'ISVIR e l'IRAPS, quest'ultimo avrebbe gestito anche corsi per magistrati siciliani a capo del sistema, secondo gli investigatori, c'erano proprio Saffo e Cavallaro che avrebbero avuto in mano la gestione degli enti attraverso incarichi di parenti e mogli coinvolto anche un funzionario regionale in servizio all'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Catania. Invece di vigilare sulle rendicontazioni degli enti, come sarebbe stato suo compito, avrebbe certificato il falso in cambio di assunzioni e incarichi di parenti presso quegli enti. L'inchiesta è ancora in corso e l'operazione di oggi, dicono gli investigatori, potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Intanto sono stati sequestrati beni per 3 milioni e 700 mila euro.